Io penso che quando si gioca a calcio, l'ho già detto anche in precedenza, se avevo 22-23 anni magari potevo andare in confusione in un ruolo nuovo, invece a 34 devi anche sapere che hai studiato tanto, hai lavorato, hai fatto tante partite, hai cominciato a imparare come si fanno diversi ruoli e quindi ho messo in campo quella che era la mia esperienza e quella voglia che avevo di giocare una partita così importante. Tutto il resto è venuto di conseguenza, è stato anche bello, comunque anche degli stimoli nuovi, per 34 anni avere ancora stimoli è bello, mi sono sentito vivo, sono contento, però è peccato perché veramente dobbiamo continuare su questa strada e ripartire già da giovedì, però come ho detto in precedenza sono un cascaramantico, siamo partiti meno 6 giorni d'andata, siamo arrivati quarti, speriamo che sia lo stesso anche adesso. Grazie a tutti.